Mi chiamo Martina Francese, vengo da Benevento e sono laureata in studi umanistici. Ho studiato mediazione linguistica e culturale alla triennale, studi arabo-islamici alla magistrale. Ho deciso di iscrivermi al Master Istud per dare una svolta alla mia carriera professionale e inserirmi in ambito aziendale. Istud mi ha fornito tutte le competenze, le conoscenze e gli strumenti necessari affinché potessi svolgere nel migliore dei modi l'attività di stage che attualmente rivesto all'interno di un'azienda di Bergamo dal nome Capitalist System S.p.a. Il mio ruolo è quello di HR Generalist, le mie attività vanno dalla selezione del personale fino all'onboarding, formazione e sviluppo dei dipendenti, così come attività di reportistica e analisi dati. Istud mi ha sicuramente fornito le conoscenze che mi si sono rivelate utili e che mi hanno permesso di arrivare all'attività di stage con una preparazione adeguata a poterle svolgere nel migliore dei modi ed è stata una delle scelte migliori che abbia fatto nella mia vita e che farei altre mille volte.